Ciao sono Giovanni e ti do il benvenuto su corso di pianoforte.com il sito ufficiale di PlayPiano la mia formazione professionale per quanto riguarda lo studio del pianoforte ed ora ti invito a ritornare spesso a visitare il sito proprio perché troverai sempre articoli nuovi e nuovi video tutorial ed inoltre se ti iscriverai al sito tramite il box qui accanto lasciando il tuo nome e la tua email riceverai gratis tre video tutorial video tutorial che non trovi nei miei canali youtube proprio perché li voglio lasciare a chi mi dà fiducia iscrivendosi al sito in questi video tutorial tocco un argomento molto importante ed interessante come suonare il pianoforte in modo professionale ed espressivo fin da subito anche se sei agli inizi dello studio del pianoforte ok augurandoti buona navigazione ti saluto ciao a presto ciao a presto ciao a presto Grazie.